pace ma sono qui sono qui invoca il popolo di padova una nostra straordinaria ascoltatrice che mi ha detto ma dov'è mark bernardini e oggi ci devi raccontare le tue prime impressioni sull'esplosione del ponte che tu avevi evocato non so se ti ricordi quello che avevi detto naturalmente naturalmente beh ma non è che sono così geniale io insomma se ne è parlato tante volte che potrebbe essere uno degli obiettivi insomma ma sentire le parabili sì il danno è riparabile è un danno grave quindi ci vorrà tempo ebbè poi immagina stava è tipo stava passando un treno con le cisterne di benzina ed è esploso insomma è chiaro quindi non un camion bomba come si è detto qui in occidente o il camion bomba ha colpito il treno guarda come si era detto anche qui in realtà io ieri sera vedevo che si parlava appunto di camion bomba dopodiché invece stamattina scopro intanto che ci sono anche dei video e delle fotografie insomma è un treno sai che il ponte era appunto fatto a due livelli c'era quello delle per le automobili e quello per le ferrovie insomma è andato a scatafascio tutto quello che perché ovviamente adesso tutti badano al fatto che ci sono tantissime fake news che girano si dice di tutto il contrario di tutto putin ha già dato disposizione di creare immediatamente una commissione d'inchiesta è chiaro che il quesito più grosso è se è stato un incidente dovuto a incuria o se è stato un vero e proprio attentato terroristico per ora non mi sento di propendere per nessuna delle due ipotesi c'è solo l'inizio direi che è una rivendicazione sì quelli possono dire quello che quelli possono dire quello che gli pare ovviamente eh no no se vieni morso da una zanzara quelli sono capaci quelli sono capaci di dirti se vieni morso da una zanzara che sono stati dopo non usare questo tono bellicista tu non sei un soldato lusso no ma figurati io credo che bisogna essere razionali se uno dice è solo l'inizio vuol dire che l'ha fatto lui su è evidente guarda io sarei molto in campana al posto loro perché se poi effettivamente viene scoperto viene appurato che sono stati loro è tutto questo risparmiare le infrastrutture ucraine come ha fatto la russia fino adesso molto probabilmente di qui a poche ore o a pochi giorni io e te parleremo di tutt'altre cose perché a quel punto la russia comincia a bombardare poi cosa ne pensi io lo sai benissimo perché io lo dico da mesi io l'avrei fatto già molto prima ma non importa quello che penso io quello che importa è che appunto si chiarisca effettivamente che cosa è successo e qualora fosse ripeto qualora fosse un attentato è palese che una risposta dovrà avvenire insomma però sei molto prudente pensi veramente che possa essere stato un incidente si dovuto a incuria e allora perché quelli direbbero siamo stati noi esponendosi a una rappresaglia ma non perché non ha senso evidentemente sono queste le indicazioni che hanno avuto da washington indicazioni di washington indicazioni washington ma questa è la mia opinione ma se washington anche scoperto che quello della duchina è un attentato fatto senza il loro consenso infatti anche quello è un messaggio cioè perché proprio adesso gli stati uniti hanno fatto questa dichiarazione è forse perché l'establishment ucraino sta cominciando ad agire senza chiedere loro l'opinione non dico il permesso ma almeno l'opinione e quindi è una sorta di avvertimento guardate che qui non si muove foglia che non vogliamo noi è meglio secondo me se siamo nelle mani degli americani rispetto a quello dei governanti di Kiev che come si chiama probabilmente hai ragione probabilmente hai ragione però è comunque un passare biden è collegato un passare dalla padella alla mare si però c'è stato quest'altro salto di qualità il discorso di biden come è stato letto in russia è stato letto esattamente in questo modo cioè questi ci stanno testando nel senso che vogliono capire fino a che punto siamo pronti al di là della retorica e delle dichiarazioni altisonanti fino a che punto la russia trasferisce tramuta e tramuta i le dichiarazioni in fatti ecco questo è quello che secondo me sta accadendo giuliano guida bardi mi spaventa un po questa retorica bellicista e questa volontà di incrementare il conflitto anche da parte di dei sostenitori di putin il conflitto va cessato bisogna buttare acqua sul fuoco perché non conviene a nessuno marchi far esplodere la benzina su un ponte è un bel modo ponte beh se questo è tuo invochi le risposte questa è la risposta all'annessione con dei referendum farsa dei quattro territori allora io ti contesto sia che sia un'annessione perché è proprio un problema linguistico sia che che ci sia stato un referendum farsa perché allora sei tu contro il pianeta la comunità occidentale 1 è una minoranza infima per quanto mi riguarda accessa a ogni possibilità di confronto d'accordo e infatti io non ho nessuna pretesa di confrontarmi con te fatto sta che tutta la comunità occidentale messa insieme sono mi pare sugli 800 milioni cioè meno di un miliardo la popolazione mondiale ormai ha raggiunto gli otto miliardi questi sono i dati le cifre ma non senti con preoccupazione il fatto che putin si è isolato si parla insistentemente di colpe a mosca che il consenso siano fuggiti nei paesi confinanti addirittura uno ha attraversato una spianata di ghiaccio un ghiacciaio per arrivare in alaska a piedi non lo so vabbè queste sono le solide versioni romanzate no comunque smentisco assolutamente qualsivoglia tentativo di golpe smentisco che sia isolato e ho già detto qui però la guerra c'è non nella tua trasmissione e ti rispondo quando ci sono stati i primi duecento trecento che hanno attraversato i vari confini con la finlandia con la georgia e tu dicevi che non era vero e se ne è fatto non ho mai detto non ho mai detto che non sia vero dico semplicemente che si tratta di nuovo di stare con i piedi per terra perché poi c'è stata una manifestazione di sostegno alla operazione militare speciale di quasi duecentomila persone e di questo io nei mass media occidentali e segnatamente italiani non ho trovato neanche mezza parola quindi è chiaro che l'impressione che se ne ricava è che tutti siano contro la guerra tutti stanno fuggendo ma quanti sono quelli che stanno scappando? al momento sai appunto i dati che vengono riportati da Reuters piuttosto che dalla Associated Press eccetera eccetera parla di poco meno di un milione io sono tentato da non crederli perché troppe volte abbiamo letto le bufale su queste cose beh però un milione è tanto ma no appunto se fosse vero il problema è che secondo me non lo è e come sulla base di che cosa contessi questo dato? ma perché allora perché non dire due milioni? dieci milioni? voglio dire le cifre poi devono essere supportate da qualche dato Giuliano quanti sono? come si può stabilire quanti siano? sono un'enormità ci sono delle immagini evidenti ci sono le file alla frontiera ciascuno di noi ha esperienza sono un'enormità ma la cosa è stato un'enormità ciascuno di questo dico